Il tanto atteso incontro tra Giuseppe Conte e il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei ora ha anche una data. Venerdì 26 i due si vedranno in rettorato. L'ex premier avrà una riunione anche con la presidente della scuola di giurisprudenza, Paola Lucarelli e con il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Andrea Simoncini, per definire i suoi prossimi impegni didattici. Conte, professore di diritto privato, potrebbe tornare ad insegnare questa materia oppure diritto civile. Al suo rientro in facoltà, dopo la conclusione dell'aspettativa obbligatoria, alle 15.30 terrà una lezione in diretta video streaming senza pubblico presente. La lezione sarà trasmessa sul sito dell'Università www.unifi.it e sul canale YouTube dell'Ateneo. Intanto una cosa però è certa, il primo marzo inizia il secondo semestre delle lezioni di giurisprudenza.